E' un diluvio di dispiacere, però anche un diluvio dall'altra parte un diluvio di felicità perché sono uscito da qua e ho potuto leggere un sacco di supporto, un sacco di cose belle quindi al di là di tutte le cose negative che giustamente girano perché c'è sempre l'altro lato della medaglia però no veramente mi sento tranquillo, positivo Ma io non penso sia così, credo anzi il contrario anche perché essendo il cavallo di battaglia uno lo sceglie apposta quindi se l'ho scelto evidentemente c'è un motivo e non penso assolutamente che sia stato sbagliato anzi il contrario, anche Arisa stesso lo ha detto quindi non so, io quel pezzo, a parte la melodia del pezzo è davvero allucinante è stupenda, è qualcosa di profondo e toccante, anche la base io quindi ho scritto la mia versione, anche il ritornello praticamente l'ho un po' quasi tutto cambiato e ti dico la verità, a me personalmente proprio piace veramente tanto, emozionalmente tanto che ti giuro, anche se l'avesse fatto un altro avrei detto cazzo è una bomba cioè è una bomba, io poi sono molto oggettivo, è molto autocritico quindi se dico così è veramente, cioè sarà una merda lo dicevo, cioè sarà una merda quindi ti giuro che per me no, cioè per me è stata la scelta più adatta anche perché poi il pubblico è esploso quindi ha funzionato, pure Mika l'ha detto Porto con Mika è stato bellissimo, fantastico, lui è veramente eccezionale un super professionista, serio, preciso, veramente proprio non scherza per niente Mika scherza, e quindi no, è stato fantastico, poi lui è stato super carino a telecamere spente, mi ha detto un sacco di bellissime cose, proprio, cioè, un grande un grande guarda, chi mi ha colpito di più sono Mario, che era nella mia categoria e i The Wise stessi, con cui sono stato in ballottaggio, che comunque sono molto forti a me piacciono molto, al di là del rapporto magnifico che si è creato tra di noi penso che siano molto validi e mi dispiace molto, mi fa male leggere quello che sta scrivendo la gente, un po' in giro, soprattutto su Instagram, perché ti giuro che tra di noi si era starato un rapporto fantastico, infatti veramente ieri pensando tra di noi, tipo, a chi andava contro di me in ballottaggio cioè, già solo pensando lontanamente che fossero stati loro eravamo in crisi, tutti e due, presi malissimo, e poi, tac, fatalità è successo proprio questa, infatti è stato minchia terrificante, terrificante un saluto a TVZoom da Diluvio direttamente da XFactor ciao